Nel concerto di Pasqua che percorso viene proposto all'ascoltatore? Intanto è il titolo preciso Pasqua di morte e di risurrezione perché a far festa al giorno della domenica di Pasqua tutti forse siamo capaci ma prima bisogna morire. Quindi c'è tutto questo aspetto di sofferenza, di passione di Cristo per cui poi c'è la risurrezione. E viene trasmessa attraverso tre brani diversi, il primo più lungo che è di Aiden, le ultime sette parole di Cristo in croce che sono veramente una meditazione spirituale. Vengono annunciate e spiegate brevissimamente per contestualizzarle nel Vangelo e per capirle un po' meglio. Poi la musica le fa sedimentare, le porta dentro in questo senso. Il percorso tra la passione, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo in musica. Quale escurso si verrà proposto? Eh sì, praticamente inizieremo il programma con le sette parole di Cristo in croce, una composizione proprio commissionata per il Venerdì Santo da un canonico andaluso nel 1786, Science de Santa Maria si chiamava, che ha proprio contattato direttamente per questo motivo il compositore Heiding che poi negli anni ha fatto diverse versioni per grande orchestra, per piccola orchestra, per quartetto d'archi di questa composizione strutturata in un modo molto originale, è difficile sentire un brano musicale di questo genere, praticamente sullo stile del vecchio oratorio il canonico dice e commenta se vuole la prima delle sette parole o frasi di Cristo sulla croce e poi l'orchestra fa la sottolineatura musicale. Ovviamente il programma poi verrà completato dalle risultate giubilate di Mozart, un grande capolavoro sempre dedicato alla risurrezione di Cristo e dal Magnificat di Marco Frisina, un compositore contemporaneo proprio di musica specializzato in musica sacra.